Senti, abbiamo delle slides. Io sono curioso di vederle, come anche i nostri ascoltatori. Dai, iniziamo subito con il programma di oggi, con l'appuntamento di oggi, Valerio. Sì, allora, come sempre ti ho preparato tre slide e le voglio commentare rapidamente. Il titolo è, come forse vedranno i telespettatori, quanto ci costa restare in Unione Europea. Vorrei farvi vedere la prima. Allora, qui stiamo vedendo quella che è la variazione del PIL pro capite reale, pre e dopo Maastricht. Ora, qui che cosa stiamo dicendo? Che la barra blu è quanto è aumentato il PIL, che come sapete è il prodotto interno lordo, pro capite vuol dire per persona, reale significa tenendo conto degli effetti dell'inflazione. E qui i ricercatori, che ringrazio, hanno messo due barre, che poi chi sta in questo momento ascoltando la radio, se le potrà rivedere sui social di Radio Radio. Ecco, la barra blu è quello che è successo nel trentennio, che va dal 1960 agli inizi degli anni 90, quando, come sapete, ci sono stati gli accordi di Maastricht e poi siamo entrati, diciamo, nell'Unione Europea, e poi dieci anni dopo nell'Euro, e invece in rosso è quello che succede nei trenta anni successivi, cioè dai primi anni 90 fino al 2020. Io credo che chi guarda questa grafica si rende immediatamente conto di quello che è successo, cioè dal 1960 al 1991 c'è stata una crescita importante del reddito pro capite reale, per tutti i paesi, la Germania, il Portogallo, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Italia, cioè quelli che, diciamo, sono classicamente i paesi con i quali noi come Italia ci confrontiamo, hanno avuto una forte crescita del PIL. Nel 1991 fino al 2020, cioè nel trentennio successivo, la barra rossa è molto più bassa di quella blu. Quindi tutti i paesi hanno avuto un fortissimo rallentamento del PIL reale pro capite, l'Italia è quello che ci ha perso più di tutti, addirittura di più della Grecia. Ecco, questo per dire che sostanzialmente il periodo precedente, che era un periodo di politiche keynesiane, di politiche di espansione della spesa pubblica, di sostegni del pubblico all'economia, di sostegno agli investimenti, eccetera, eccetera, si dice sempre abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Sì, attenzione, però il PIL pro capite, che è l'obiettivo fondamentale per il quale gli stati fanno economia, era aumentato. Io vi faccio vedere i dati, poi ciascuno li interpreta come vuole. Secondo grafico, questo invece rappresenta la media del deficit dal 1995 al 2020, cioè in 25 anni, un quarto di secolo, e qui vedete il cosiddetto saldo primario in rosso e in blu il saldo complessivo. Ora, il saldo primario, Francesco, come abbiamo detto più volte, è sostanzialmente la differenza tra le entrate e le uscite del paese, mentre il saldo complessivo contiene anche altri aggregati, di cui è molto importante la componente spesa per interessi. C'è una barra rossa nel grafico, che è il 3%, che è un vincolo che l'Unione Europea ha posto, un vincolo che peraltro è di dubbia scientificità, ma comunque queste erano le regole, dicendo che non bisogna sforare il 3% del rapporto deficit-PIL. Ebbene, qui quello che noi vediamo è che la media, cioè la media di periodo di questi 25 anni tra tutti i paesi, vede come paese migliore dal punto di vista dell'avanzo primario, cioè il controllo dei conti pubblici, come differenza tra entrate e spese, il nostro tanto vituperato paese, cioè l'Italia. Il secondo paese virtuoso è la Germania, ma molto meno virtuoso dell'Italia. Tutti gli altri paesi hanno peggiorato lo stato delle finanze pubbliche nelle barre rosse, cioè il rapporto tra entrate e uscite. Poi ovviamente il peso complessivo è legato con il saldo complessivo da altri fattori, dove pesa prioritariamente la spesa per interessi. Quindi è chiaro che il nostro paese poi viene trascinato giù dal costo della spesa per interessi, di cui ho parlato altre volte, per esempio i meccanismi delle aste che per il nostro paese sono assolutamente non competitive, però noi vi faccio notare che siamo rimasti sostanzialmente rispettando il limite del 3%. Altri paesi come il Portogallo, la Spagna, anche la Francia e soprattutto la Grecia hanno sforato. Il terzo grafico, e chiudo questa presentazione, riguarda l'andamento del 1995 fino al 2020 del cosiddetto saldo primario. Ecco, e qui voglio nuovamente, questi sono dati del Fondo Monetario Internazionale, quindi tutti questi dati sono dati pubblici, i nostri ricercatori non hanno fatto altro che prendere dati pubblici e invece metterli in un grafico, per dimostrare che cosa? La barra blu è il saldo primario dell'Italia, la barra rossa è il saldo primario della media dei paesi europei, dell'Eurozona 12 paesi. Quindi noi possiamo documentare che sostanzialmente l'Italia è sempre nell'arco di 25 anni, quindi praticamente fino al 2020, quando poi c'è l'effetto del Covid, che chiaramente cambia tutte le regole del gioco, ma negli anni normali di un quarto di secolo l'Italia ha sempre un avanzo maggiore di quello della media di tutta l'Europa. Quindi non è qui per fare campanilismo, ma è per dire a chi ci ascolta guardate che quando entrate in un bar o per la strada vi dicono, ma perché noi a differenza degli altri abbiamo gli sprechi, noi non conteniamo la spesa pubblica, noi sprechiamo di qui, noi sprechiamo di là, potete dirgli non è vero. Noi siamo stati più virtuosi della media di tutti gli altri paesi europei, nei quali, come vi ho documentato, c'è anche la Germania, ma possiamo dire le stesse cose di Olanda, Belgio o di altri paesi. Quindi è un falso storico il fatto che il nostro paese perlomeno negli ultimi 25 anni, che è quelli che vi sto facendo vedere, abbia fatto degli sprechi. Semmai il problema è la struttura invece della struttura finanziaria, cioè il fatto che noi ci indemitiamo avendo perso la sovranità monetaria. Chiudo facendo un commento finale, se possibile. Certo, certo. Dopo Maastricht, il primo concetto è dopo Maastricht, quindi 30 anni fa la variazione del PIL pro capite reale è stata molto più bassa dei 30 anni precedenti, quindi vuol dire che il problema non è la moneta, il problema è, a mio parere, tutto il modello economico sottostante. Noi avevamo avuto un modello economico di tipo espansivo per 30 anni che aveva fatto crescere il reddito delle persone. Poi dopo, a un certo punto, entriamo in una fase in cui invece si dice taglio della spesa, controllo dei conti e questo ha danneggiato il PIL pro capite. Secondo, l'Italia è storicamente il paese con la maggiore differenza tra il saldo primario e il saldo complessivo, cioè quello che è andato peggio di tutti e infine l'Italia è il paese più virtuoso osservando appunto il saldo primario. Quindi la domanda è perché continuiamo a questo punto a tagliare la spesa pubblica e non ci concentriamo invece sulla questione della spesa per interessi sulla quale noi abbiamo dei meccanismi non competitivi. Da ultimo vorrei ringraziare e salutare, se possibile, gli autori e cioè il dottore Alberto Bastiani, Alessandro Capuccini, Roberto Di Donato, Roberto Bertuzzi e Pari De Lupo che hanno prodotto per voi queste informazioni. Grazie.